I prezzi dell'edilizia si impennano, il costo delle materie prime aumenta, c'è il rischio di rimbalzo in negativo e di mettere in pericolo la ripresa economica nelle marche. Quali sono le prospettive per le imprese idili marchigiane? Lo abbiamo chiesto a Riccardo Battisti di CNA Marche. I costruttori marchigiani associati a CNA in questo momento sono in apprezzione per due motivi. Il primo perché ancora deve essere ben chiarito dal governo quale sarà il futuro del bonus fiscale rispetto alla ristrutturazione sia il 110 che anche il bonus facciate e il bonus sisma. La seconda cosa che li mette sempre in apprezzione è il tema del caro materie prime e soprattutto, oltre al caro, anche le difficoltà a reperire le stesse. Se pensiamo in questo momento che per una nostra impresa noleggiare o acquistare delle impalcature diventa quasi impossibile e quindi di fatto non si possono avviare i cantieri, è uno degli elementi più importanti. Altre materie come ad esempio il ferro o il legno per costruire sono diventate quasi introvabili e sicuramente hanno raddoppiato il loro prezzo. Qual è la situazione che si andrà a creare? Un settore come quello dell'edilizia che dal 2008 è stato fermo per difficoltà oggettive, oggi si trova ad affrontare un'esponenziale crescita di domanda ma senza la possibilità di darne risposta adeguata. E oltretutto nel momento in cui si vanno anche a stipulare i contratti con i commettenti si trova la difficoltà di stabilire qual è il prezzo congruo. Infatti sul prezzo congruo abbiamo la possibilità oggi di fare preventivi in oltre i 15 giorni. Se purtroppo non riusciamo a stabilire qual è il prezzo delle materie prime e anche di quello che sarà poi il costo finale del lavoro. Nel 2020 sono aumentate di 30.000 unità le imprese del settore edile. Con il decalage del super bonus 110 voluto dal governo Draghi, quale sarà il futuro di queste imprese? Si tratta di capire bene cosa succederà dopo l'approvazione della legge di stabilità del governo. In primo luogo perché si sta mettendo mano alla risistemazione anche di quello che è il bonus per le case unifamiliari, anche se lì si parla di un collegamento a un parametro che è l'ISEE. L'altra cosa è ovvia che in molti casi si è stipulati dei contratti che non si riesce a portare a compimento, il che potrebbe voler dire per alcune di queste nostre imprese non poter far fronte poi ai pagamenti e quindi andare anche in difficoltà economiche e finanziarie, sapendo che la finanza delle nostre piccole e medie imprese è tutta una finanza derivata dalle banche e quindi con l'approccio e l'approdo al sistema bancario, soprattutto nel territorio marchigiano, era già complicato prima e oggi è diventato veramente quasi difficile. Negli ultimi mesi si sente sempre più spesso associare alle Marche la definizione di regione in transizione verso un'economia legata al centro-sud Italia. Quanto c'è di vero in questa lettura? Giovanni Dini, direttore del centro studi CNA Marche. L'economia delle Marche ha un problema. Si è arrestata qualche anno fa perché aveva imboccato un percorso virtuoso, stava seguendo le regioni del nord-est, poi pian piano ha lasciato questo percorso virtuoso e ha cominciato a perdere colpi. In questo modo l'economia della nostra regione è stata collocata con altre economie, fra le economie in transizione, che fra l'altro proprio perché in transizione e quindi in difficoltà di fatto, riuscirà ad avere un po' più di soldi dal settore pubblico. Però il problema è che noi abbiamo una regione con una serie di potenzialità che vanno valorizzate. In questo momento noi abbiamo tutta una serie di problemi che non riguardano solo la nostra regione, riguardano a dire il vero tutto il sistema economico europeo ed è quello dei prezzi ed è quello dell'inflazione. Noi però non dobbiamo temere sotto questo profilo perché innanzitutto l'inflazione è un segnale della ripresa che è ripartita. Quando si parla di inflazione elevata e che cresce, noi siamo di fronte a un processo economico che cresce e che quindi aumenta il prodotto interno lordo, di fatto la torta della ricchezza che si può suddividere fra gli stakeholder. Ecco che l'inflazione dobbiamo ritenerla sotto questo aspetto un aspetto positivo che indica un processo positivo. Attenzione però che l'inflazione deve essere evitata quando si surriscalda la situazione, cioè quando diventa troppo elevata. Noi non siamo assolutamente in questa fase, anzi già alcuni ci dicono che ci sono delle premesse perché l'inflazione si riporti ai livelli inferiori. Ricordatevi che l'Europa da tempo ha inseguito l'obiettivo dell'inflazione al 2% perché il processo di crescita era troppo basso, troppo inferiore alle aspettative e l'inflazione era troppo bassa. Ecco perché l'inflazione non va vista solo in termini negativi, anzi. L'inflazione tenderà a decrescere perché ci sono già alcune premesse, la Russia ha già indicato con esattezza i termini entro i quali rifornirà l'Europa del gas metano che l'Europa richiede. Il gas metano, la sua offerta e la domanda sono all'origine dell'aumento dei prezzi. Ricordiamoci anche che il gas metano è stato richiesto anche dalla Cina, assieme al petrolio della Russia, per far fronte alla richiesta della domanda e quindi all'offerta cinese che si è trovata di fronte a un problema, come soddisfare la crescente domanda con un'offerta adeguata. In questo modo la Cina ha drenato tutta una serie di risorse dal punto di vista dell'offerta di beni energetici e noi ci siamo trovati nella situazione in cui i prezzi crescerono. Attenzione, però questo va rapidamente a riportarsi sui piani della normalità.